Numero 2 del Presidente, indirizzi per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, primi provvedimenti propedertici. Allora, questo abbiamo discusso a lungo con i partiti, con tutti quanti, si tratta di una lunga delibera che è solo ovviamente di indirizzo, quindi non ci sono decisioni operative che poi cambieranno nella sostanza la vita della sanità, ma evidentemente danno una serie di indicazioni, ovvero poi in combinato disposto, immagino che sarà dopo nella riservata, ci sono le nomine dei nuovi direttori generali, c'è la sistemazione di Alisa e del Dipartimento, non è un segreto, il Dottor Quaglia farà il direttore generale e il commissario di sei mesi, per i prossimi sei mesi di Alisa, all'interno dei quali nominiamo anche dei subcommissari, che sono sostanzialmente delle responsabilità che esistono già, in modo da portare avanti il percorso, ovviamente in mezzo alla pandemia, dovremmo fare scelte più di cambiamento di quelle che stiamo facendo adesso, ma ci diamo alcuni mesi di tempo, poi come sapete le responsabilità del Dipartimento Alisa sono regolate anche da una legge che è stata la legge di riforma e quindi costruiamo di fatto un percorso che poi dovrebbe portarci nella nostra idea a rendere un po' più autonome le ASL in alcune scelte, a riportare nel Dipartimento alcuni elementi di programmazione fondamentali, a costruire un comitato di gestione di cui fanno parte i direttori generali, la direzione generale, la programmazione sanitaria e il mondo dell'informatica che poi sarà una sorta di cabina di regia che nei prossimi sei mesi orienterà le scelte della Giunta, quindi direi che è una delibera interlocutoria, ma che dà un segnale di cambiamento che ritengo che il sanitario in generale si aspettasse da noi. Sempre del Presidente, a firma con Giunta, con l'assessore benvenuti, la tre e la quattro sono degli incarichi di consulenza, uno riguarda l'incarico all'Istituto Internazionale delle Comunicazioni per l'analisi delle necessità infrastrutture e del mercato e del GNL con un importo di spesa per Euro 79.900. Invece la quattro riguarda l'incarico alla società Memex SRL per supporto alle strutture regionali per lo sviluppo delle attività previste dal progetto Senex con un importo di spesa per Euro 41.846. La numero 5 è riservata, numero numero 6 è l'approvazione del lavoro del direttore regionale dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento alfa. In riservata poi andrà la nomina del direttore, quindi infatti la scelta è riservata. Numero 8, sempre del Presidente, approvazione del gruppo di amministrazione pubblica Regione Ligure e dei soggetti comprende il bilancio consolidato in senso del decreto legislativo 118 del 2011. 9, determinazioni, sempre del Presidente, determinazioni in merito al bilancio di previsione 2020 dell'Istituto Giannina Gaslini. 10, rettifica parziale della DGR 1020 aventa ad oggetto variazioni al bilancio, contributo per la riduzione del debito delle Regioni e Statuto Ordinario. Numero 11, sempre del Presidente, una delibera di variazione per Euro 783.482 al bilancio 2022, Fondo Sanitario 2020, ripartizione, insomma, finanziamento screening per prevenire e radicare il virus HCV. Numero 12 è l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio gestionale del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 21-23. 13, sempre del Presidente, approvazione del progetto definitivo e di realizzazione del nuovo ospedale di Galliera, primo lotto con un impegno di spesa. Scusate, scusate, vedevo se è possibile, se era possibile questa portarla alla prossima giunta, perché è arrivata a poco che... No, è possibile portarla alla prossima giunta, c'è il Vice Presidente qua sotto, è la fine di un'inter, l'ospedale Galliera, sono cinque anni di lavoro, Alessandro. Lo so, Giovanni, non è in mancanza la rifiducia e nemmeno per mancanza la risposta. No, ma non è proprio in discussione. È già stato annunciato sui giornali stamani, è presentata, è registrata da tempo, è l'inter finale dell'ospedale Galliera, vorrebbe dire dare un segnale e divastante alla Liguria, di sfiducia al Consiglio d'Amministrazione, alla Curia. Ma proprio per questo motivo, magari, se ci fosse stata promessa prima, ci avrebbe anche tolto da questo imbarazzo, perché io comunque delle direttive... È il momento in cui è stata finita dagli uffici, perché ci hanno chiesto al Consiglio d'Amministrazione del Galliera una mia diretta responsabilità come assessore alla sanità. Quindi vi chiedo di fidarvi e di approvarvi. Io sento un attimo, fammi sentire, mi sento un attimo in privato con Orrego. Ma a ritenersi si astiene. È il nuovo ospedale Galliera, sono sei anni di lavoro, mi sembra una discussione, è già tutto, come si dice, programmato e pubblico da tempo immemorabile. È semplicemente l'atto finale. Credo che sia solo una questione di tempi, perché è arrivata quattro minuti prima della giunta. No, lo so, benissimo. Non è capito, non è che lo c'è dentro, quindi sicuramente è così. Ma non stiamo in fondo, leggetela, ma è un intercomplesso, è cominciato all'inizio della passata legislatura, finisce oggi, c'è ovviamente tutto il mondo del Galliera che la sta aspettando, c'è il Vicepresidente Zampini, già convocato l'etrenza alla stampa per annunciarlo. Non è un atto che modifica, è l'atto che mette insieme il nostro finanziamento. Comunque, se volete, portiamola in conto. Comunque, però, che si dato sia, però al mio tempo di legge, l'arrivata al 13,26, perché l'ho vista in tempo reale che arrivava così. Ma è che a letta, cioè sicuramente è così. Lascio mezz'ora per leggerla, se volete. Vediamo un secondo. Grazie, grazie Giovanni. Scrupolo, ecco nel senso. La 14 alla 22 sono pratiche riservate, quindi 23 a firma congiunta, Presidente, Assessori Benvenuti, Gianpedrone, razione di azione annuale delle partecipazioni societarie dirette e indirette, ricognizione delle partecipazioni tenute al 31 di settembre 2019, relazione sulla trattazione e gli interventi definiti. 24, sempre del Presidente, la congiunzione del patrocino e la regione di Gure ad iniziative varie. La 25, sempre una trattazione riservata. Numero 26, sempre del Presidente, l'approvazione degli accordi integrativi tra Regione, Alisa e le organizzazioni sindacali della pediatria di libera scelta riguardanti i progetti vaccinazioni antifluenzali, casogliati in età pediatrica, sani, esecuzione di test antigenici per le potenzioni dell'attività di gestione emergenza Covid e potenzione di forme associative del personale di flusso. La 27 anche è soggetta a trattazione riservata, quindi si passa alla 28, sempre del Presidente, eliminazione dei termini per la presentazione delle domande, per l'iscrizione dell'elenco regionale degli aventi, titola, nomina direttore, socio-sanitario presso gli agenti sanitari regionale. Numero 29, sempre del Presidente, il recepimento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica ai sensi dell'articolo 144 e del 50 del 2016. Renta del Vicepresidente è l'approvazione delle linee guine per la formazione di operatori dei turismi e dei pescaturismi della Liguria. 31, le pratiche dell'assessore Benvenuti, è la proroga del termine per gli adempimenti di cui è l'articolo 18 del Regolamento 1 del 2018, Regolamenti d'attuazione di norme in materia di energia. È semplicemente una proroga dei termini per gli adempimenti sulle caldaie, sulle verifiche, è una questione ovviamente legata al Covid, quindi è una certa impossibilità di lavorare. Come si è aspettato. Sì, la 32, sempre dell'assessore Benvenuti, eliminazione di vieto, vendite e promozione nel periodo precedente saldi invernali 2021, Covid-19. In questo andiamo a recepire una richiesta da parte dell'associazione, sia del commercio nel dettaglio, ma anche grandi fede a distribuzione, moduli cooperative e quant'altro che ci hanno chiesto di modificare quanto a suo tempo ci hanno chiesto sulla questione delle vendite promozionali. Noi ovviamente ci rimettiamo alla loro valutazione della situazione commerciale. Molto apprezzata questa. C'hanno i negozi pieni di roba. Come sempre noi, quando c'è una richiesta unanime, sono loro gli esperti, non possiamo certo dire niente. La 33 alla 34, sempre dell'assessore Benvenuti, sono due a Tendum, convenzione con Filse per l'attuazione dell'azione 311 del Porsa S del 2014-2020, l'altra è sempre del Porsa S del 311 per la gestione del fondo per il sostegno ai programmi di investimento delle piccole e medie imprese nell'area di crisi compressa del Savonese. 35, a firma congiunta Assessore Berrino e Gianpedrone, approvazione del documento propedeutico del progetto di prima, comprensivo del rapporto preliminare di quell'articolo 8 della legge regionale 32-2012. Il piano trasporto e infrastrutture. Il numero 36 dell'assessore Berrino è l'approvazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego, delle politiche attive dei lavori ai sensi del decreto ministeriale 74 del 2019. Il numero 37 dell'assessore Ferro è a trattazione riservata. Così come la numero 38. Passiamo alla 39, sempre dell'assessore Ferro, è l'approvazione delle disposizioni in materia di rotazione ordinaria e straordinaria del personale della giunta della regione Liguria. Grazie. 40, sempre dell'assessore Ferro, è la parziale razionalizzazione delle strutture di segreteria generale, direzione centrale, finanza, bilancio e controlli. L'assessore Gianpedrone è la numero 41 dell'approvazione delle disposizioni per l'anno 2021 di Arpalle. Bene, grazie. L'ultima pratica web dell'assessore Scaiola e della numero 42, l'approvazione dello schema di prezzeria regionale delle operazioni di 2021, essensi dell'articolo 23,7 del decreto legislativo 50 del 2016 e legge regionale 31 del 2007. Grazie. Finisce la giunta web e inizia la riservata.